Buongiorno a tutti, volevo informare la cittadinanza su alcuni aggiornamenti riguardo la situazione emergenziale Covid. Ovviamente conosciamo tutti quelli che sono i dati nazionali. Abbiamo nella giornata di ieri un aumento dei contagi giornalieri di circa 22 mila unità, di cui solo in regione campagna 2.800. Questo sta a significare che è un virus ancora molto contagioso, ma sicuramente meno violento rispetto a quello registrato nel mese di marzo. Infatti in questo momento abbiamo più contagiati, ma in proporzione meno sintomatici, di conseguenza meno persone ricoverate e quindi chiaramente una minore pressione su quanto riguarda le strutture ospedaliere. Però è chiaro che è necessario invertire da subito questo trend di crescita, perché è ovvio che nel caso in cui non si dovesse riuscire aumenteranno anche i sintomaggi, aumenterà anche la pressione sugli ospedali e quindi questo potrebbe causare sicuramente delle problematiche più serie che dovremmo poi dopo dover affrontare. Questo significa quindi che è fondamentale rispettare quelle che sono le raccontazioni, che tutti noi conosciamo, le regole, cioè quelle di lavarsi sempre le mani, indossare la mascherina e soprattutto mantenere il distanziamento sociale. Sappiamo bene che non esistono delle ordinanze che oggi limitano la mobilità intracomunale, ma è chiaro, così come anche descritto nell'ultimo dpcm del Presidente Conte, che c'è una forte raccomandazione, quindi a rimanere a casa, una forte raccomandazione a non uscire in questo momento, ma a uscire solo in caso di necessità nel rispetto di quelle che sono le regole che dobbiamo assolutamente non tralasciare. Per quanto riguarda invece la situazione proprio specifica della nostra città, abbiamo i dati ufficiali di ieri, 27 ottobre, dove abbiamo purtroppo registrato due nuovi soggetti positivi che hanno portato poi a 7 il numero complessivo dei contagiati. Abbiamo avuto anche una buona notizia da Lazaro, è che c'è stata la guarigione della nostra concittadina che è rientrata dalla Francia, che finalmente è risultata positiva, per cui veramente l'augurio di guarigione alla nostra concittadina, ma soprattutto anche a tutte le altre persone contagiate positive in questo momento, insomma, di pronta guarigione. Vi posso garantire che stanno tutti bene, io sono in costante contatto quotidiano, telefonicamente con tutti loro e devo dire che sono anche loro a darmi la forza in questo momento per affrontare queste situazioni che sicuramente non auspicavo di dover affrontare così subito dopo il primo mese di legislatura. Per cui sono prima loro a darmi la forza di andare avanti e quindi il messaggio forte che voglio lanciare a tutta Positano è che queste persone stanno bene e quindi ci invitano a stare tranquilli, a rispettare le regole e a non abbassare la guardia soprattutto. Purtroppo però questa mattina ne arrivano anche altre notizie, non ancora confermate ufficialmente, ma di altri probabili sette contagiati, che porterebbero quindi il numero di positivi a 14. Si tratta purtroppo di dati non confermati perché sono tamponi effettuati in forma privata. Qui bisognerebbe aprire una parentesi perché è chiaro che se si fa la corsa a fare i tamponi presso strutture private diventa poi complesso riorganizzare e avere un attimo il punto della situazione. Per cui, ma questo non lo dico io, lo dicono le disposizioni nazionali, i tamponi vanno fatti, vanno fatti solo se necessario, vanno fatti solo in caso di sintomi. Le raccomandazioni sono, sia per i contatti diretti ma anche per i contatti stretti, sono quelle di stare a casa, quindi di evitare incontri che in questo momento non sono necessari e solo nel caso in cui poi dovessero presentarsi dei sintomi contattare il medico di base, il quale poi a sua volta contatterà l'ASL per prenotare il tampone. Per cui veramente vi esorto ad evitare questa corsa ai tamponi. Per quanto riguarda i medici di base, volevo informarvi che ho nella giornata di ieri emesso un'ordinanza, un'ordinanza rivolta sia ai medici di base ma anche a questi centri di analisi privati che sono tenuti in via obbligatoria a informare il comune su tutti quelli che sono i tamponi che stanno effettuando in attesa ancora prima dell'esito. Questo per mettere insieme tutta una serie di azioni preventive per conoscere quale sono le situazioni sul territorio e quindi per intervenire già con una quarantena ancora prima che vengono effettuati i tamponi e che si conoscono gli esiti. Su questo abbiamo anche predisposto degli elenchi che vengono aggiornati quotidianamente e inviate alle forze dell'ordine di tutti i soggetti che sono posti in quarantena e quindi abbiamo vigili, carabinieri e guardia di finanza che con grande attenzione sono sul territorio e controllano che queste misure di quarantena fiduciaria siano rispettate. Per cui a loro va veramente il mio ringraziamento, il ringraziamento dell'amministrazione comunale, il ringraziamento quindi di tutta la cittadinanza. Oggi sono in contatto con i medici dell'USCA, dovremo effettuare il primo string di tamponi che avverranno in Piazza dei Racconti in giornata dove verranno effettuati i tamponi a tutte le persone che sono state poste in quarantena fiduciaria relativi ai primi soggetti positivi che ci sono stati comunicati. Altre notizie importanti, lunedì è stato convocato e riunito il COC, centro operativo comunale, quindi un tavolo permanente composto dall'amministrazione, dal sindaco, dalla protezione civile, dalla Croce Rossa e da tutte le forze dell'ordine, che ringrazio ancora, per cui tutte le decisioni saranno ponderate e prese all'interno di questo comitato organizzativo, nell'interesse della cittadinanza e nel rispetto di tutte quelle che sono nelle regole. Per quanto riguarda le visite ai defunti e quindi la questione riguardante il nostro cimitero, abbiamo previsto a partire da ieri degli orari speciali di apertura, per cui si potrà visitare il cimitero dalle 8 di mattina alle 18 di sera con orario continuato, ovviamente nel rispetto chiaramente ancora una volta di tutte le norme riguardanti il distanziamento sociali, l'uso della mascherina e ci saranno anche lì delle persone che verificheranno e controlleranno che tutte queste misure saranno adottate. Ovviamente ulteriori misure restrittive saranno valutate di giorno in giorno a seconda di quello che sarà l'andamento e le problematiche che si potrebbero presentare. Stiamo anche valutando e a breve lo disporremo, la disposizione di un numero utile per quanto riguarda da parte del Comune, dove chiunque può telefonare per avere informazioni, per avere dei suggerimenti, per fare delle domande al quale ci saranno delle persone che risponderanno ed eventualmente si informeranno per poi richiamare e dare le informazioni necessarie. Oltre a questo mi preme sottolineare e ricordarvi alcune scadenze importanti. Il nostro Comune già nel mese di luglio ma anche adesso ha predisposto un imponente piano di aiuto socio-economico, un componente per quanto riguarda ovviamente quelle che sono le disponibilità del nostro Comune, uno sforzo sicuramente importante che abbiamo fatto, per cui volevo ricordare che scade il 6 novembre il bando per gli affitti. Il Comune dà a chi ha i requisiti ovviamente il rimborso del 50% dell'affitto di casa per tre mesi fino ad un massimo di 750 euro, per cui le domande vanno presentate, come dicevo, già entro il 6 novembre. Poi ancora abbiamo aperto il bando per il rimborso per le spese dei libri di testo sia per le scuole secondarie di primo che di secondo grado. Anche questo scade il 9 novembre. Anche qui, in base alle fasce di reddito, andremo a rimborsare integralmente l'acquisto dei libri per i nostri studenti, fino ad un massimo del 50% per l'ultima fascia, cioè per la fascia più alta di reddito. Infine, sempre per quanto riguarda il piano socio-economico, sarà pronto e quindi pubblicato dal primo novembre il bando per gli stagionali. Sarà possibile quindi presentare la domanda appena uscita il bando, una misura che noi riteniamo fondamentale in questo momento, che abbiamo riproposto, dove prevediamo dei contributi agli stagionali in proporzione ai mesi lavorati dal primo luglio al 31 ottobre. Ovvero, chi avrà lavorato per un solo mese avrà diritto a tre mensilità di contributo pari a complessivi 900 euro, cioè 300 euro di mensili. Chi ha lavorato per due mesi avrà diritto a due mensilità pari a 600 euro. Chi ha lavorato per tre mesi avrà diritto ad una mensilità pari a 300 euro. Per coloro invece che purtroppo non hanno lavorato e quindi sono risultati disoccupati durante questo periodo, avranno diritto a tre mensilità di 400 euro, quindi per un complessivo di 1200 euro in tre mesi. A questo si aggiunge un contributo di 50 euro per ogni figlio a carico di ogni lavoratore stagionale che dovesse rispettare i requisiti e che quindi può accedere al finanziamento. Questo in sintesi sono le principali notizie di giornata. Noi continueremo a tenervi informati su quello che è l'andamento dell'emergenza Covid sul nostro territorio. Chiaramente non posso che lasciarvi con delle raccomandazioni importanti che ho già detto ma dobbiamo continuare a sottolineare. Non solo io, Sindaco come Comune, ho chiesto anche a tutta la mia amministrazione di far passare questo messaggio dove oggi è fondamentale restare a casa e uscire solo per necessità. In questo momento questo è sicuramente il modo più efficace per stare tranquilli e per evitare contatti inutili che potrebbero generare delle problematiche successive per il futuro. Per cui veramente vi esorto a uscire solo per lavoro, per necessità e soprattutto laddove è necessario uscire, utilizzare come già detto prima il rispetto di tutte le regole che conosciamo bene. Quindi così sicuramente potremo superare questo momento. Io sono certo, sono sicuro che ce la faremo, ce la faremo tutti quanti insieme e soprattutto con l'unione di tutta la comunità e con il sossegno che dobbiamo necessariamente darci l'uno con l'altro in questo momento difficoltà. Per cui vi ringrazio, vi darò aggiornati e ci sentiremo quotidianamente.